Buongiorno amici di Buongiorno Italia, in diretta tv anche su Rai3, buongiorno amici, siamo a Imola, eccoci qua, piazza Bianconcini, circondati da tanti ascoltatori, siamo in diretta in questo momento anche su Radio 2 e di fianco a noi, in mezzo a noi c'è stamattina il dottor Costa, la leggenda del moto mondiale, la leggenda del soccorso in pista, l'uomo che ha salvato tanti piloti, tanti campioni, a lui va la maglia rossa di Radio 2 questa mattina per dirgli grazie, perché grazie alla sua opera, grazie al suo lavoro instancabile, non solo ha portato la medicina dello sport e del recupero a livelli inimmaginabili, ma anche fatto sì che i sogni degli appassionati di sport potessero continuare, dottore grazie. Grazie, è una bellissima maglia, il colore rosso, rosso come la passione, rosso come il cuore, in questo caso il cuore di quelli che vi ascoltano, perché voi con le vostre parole portate quello che è diciamo così un po' di felicità, un po' di distrazione da questo mondo che è un po' complicato, devo dire. Lei è veramente un poeta, dottore Ardemagni, la frase di rito per la consegna della maglia di oggi? Beh, caro dottor Costa, noi le consegniamo questa maglia per il lavoro in defesso di sicurezza in pista e di soccorso ai motociclisti in tutti questi anni. Grazie davvero da parte di Radio 2 e della Rai. Io vi ringrazio, ma lui ho sentito prima che sta cercando di fare vincere una palma d'oro, credo a un film. Anche sì, sì. Beh, allora vi dico due cose. Io ho scritto un libro, L'eroe che è in te, che l'ho presentato al Mugello, l'ha presentato Guido Meda e Carmelo Speleta, presidente, capo, il discurso della Dorna, con tanti piloti, Marco Dovizioso, Lorenzo, tantissimi... Beh, lei insomma li conosce tutti i piloti. Questo libro ieri è stato candidato al Bancarella, ma fino a qui Ardemagni non mi aiuta. No, certo. Il Bancarella me lo aiuta. No, c'è una cosa, che però da questo libro a Roma una casa produttrice ha avuto l'idea di fare un film. Aspetti, lo raccontiamo alla radio e intanto salutiamo gli amici di Buongiorno Italia. Con loro ci vediamo domani da Treviso. Allora, continuiamo. Allora, intanto... Allora...